Ciao, questo settembre si terrà un evento molto interessante per tutti gli appassionati di difesa personale e di Krav Maga. Verrà infatti Eyal Yaninov per uno stage internazionale. Eyal Yaninov, per chi non lo conoscesse, ha lavorato per più di vent'anni con il fondatore del Krav Maga ed è di fatto uno dei massimi esperti al mondo. Perché sto facendo questo video? Perché quest'anno per la prima volta in assoluto organizziamo una masterclass riservata a istruttori di Krav Maga di altre federazioni e a maestri di arti marziali e sport a combattimento. Di fatto questa è un'occasione unica se già fai Krav Maga per poter lavorare con uno dei massimi esperti al mondo e arricchire ancora di più il tuo percorso. Se invece non l'hai mai praticato ma sei interessato, di sicuro puoi vedere in questa occasione un Krav Maga molto vicino alla fonte. Nella difesa personale siamo tutti dei ricercatori e nessuno può dire di avere la verità in tasca. Anche per questo ci piace condividere questo evento. Se sei interessato mandami una mail all'indirizzo che vedi qua sotto ma troverai comunque tutte le informazioni in calcio a questo video. Non ho altro da dirti se non augurarti buona vita e buona pratica. Ciao! 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 Ciao!